Ecco il volto del nuovo nemico dell'intera galassia, il grande Shirobhai. Finito nella stretta micidiale di Vegeta che si è trasformato in un enorme Vegeta, Goku cade dal serpentone e finisce Tsunamek. Mancano soltanto 5 mesi all'arrivo dei fratelli Parabara che vogliono invadere e conquistare la Terra. Nel frattempo Bulma, Creelie e Gohan hanno scoperto che le sfere recuperate non sono altro che Shirobhai. Nel frattempo Goku ha aiutato Junior a distruggere il proprio figlio. Sass ma tutta un tratto. Shirobhai taglia la serpentone di Vegeta in che senso? Vegeta si mette subito in viaggio verso il pianeta. Goku continua la sua corsa per raggiungere Re Cazze. Nel frattempo i suoi amici hanno scoperto una cosa. Hanno trovato delle sfere. Se riuscissimo ad andare Tsunamek potremmo trovare altre sfere del Drago. Sì, d'accordo. Scontro matto. Spaziale del nuovo nemico all'inseguimento della squadra Genio. Tsunamek.